Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Barbara D'Urso ha espresso via social il suo dolore per la scomparsa di Jack, uno degli intrattenitori del pubblico presente in molti dei suoi programmi TV. Non è dato sapere quali siano stati i motivi della scomparsa dell'uomo, ma sui social in molti tra coloro che l'avevano conosciuto hanno espresso il loro dolore tra i commenti al post della D'Urso. Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia. Non ci credo. L'altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto Ciao Barbara, e ti ho lanciato un bacio. Anni, anni e anni vissuti insieme. C'eri sempre, in tutte le mie trasmissioni. Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi. Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene. Ciao Jack, unico Jack, ha scritto senza nascondere la sua commozione. Grazie. Grazie. Grazie.